Benvenuti a questo nuovo video che dà avvio ad una mini serie, esattamente che sarà composta da due video, quindi proprio mini mini, una mini serie con tema i gestori di password. Ecco, perché i gestori di password? Perché se anche voi siete come me, che ho accesso a decine e decine di siti diversi, con decine e decine di modalità differenti di accesso, con user diversa e password naturalmente anche diversa, allora è impossibile che teniate a mente, nella vostra mente, tutte le user e tutte le password, quindi è d'obbligo usare un gestore di password. Cosa fa? Il gestore di password ci semplifica la vita in diversi modi. Uno ci permette con una password, quella ovviamente che abbiamo bisogno per accedere al gestore di password in quanto tali, quindi dobbiamo tenere a mente una sola password e poi lui, il gestore di password, al suo interno, ci permette di archiviare tutti i siti, tutti gli applicativi, qualsiasi cosa che abbia una user, una password da gestire, lui lo fa, è il suo lavoro. Quindi il gestore di password è un archivio di accessi, dei nostri accessi, dei nostri accessi privati, segreti. E questo è il vantaggio. L'altro vantaggio che appunto permette anche di descrivere, di allegare delle note a questi accessi, di mettere le regole di accesso, di dare magari anche delle scadenze alle password, di generare nuove password, ecco. Tutto questo è appunto l'insieme dei compiti dei cosiddetti gestori di password. Adesso io ho parlato di una mini serie di video perché io presento i due gestori di password che io da parecchio tempo sto usando. So naturalmente che ne esistono decine di gestori di password, ognuno con i suoi pregi e i difetti. Fatto sta che per quanto mi riguarda io ne utilizzo un paio, di cui il primo vado a presentarlo appunto adesso in questo video, e il secondo ovviamente al prossimo video, alla prossima puntata. Allora, il primo gestore di password può essere usato a due condizioni. Uno, che si abbia un account Google. Due, che si usi il browser, il navigatore internet, Chromium o Chrome, insomma è uguale. Sapete che c'è sempre questo dualismo fra Chromium e Chrome, questa dualità. Comunque, tutto sommato, parlare di uno è esattamente la stessa cosa che parlare dell'altro. Quindi, specificatamente per il nostro mondo Linux, quindi per Ubuntu, di conseguenza, parleremo di Chromium. Ma appunto sappiate che la stessa cosa vale per Chrome. Dunque, ho detto che dobbiamo avere un account Google, questo lo vedremo fra un attimo, perché? Perché le nostre user e password possono essere salvate e sincronizzate comodamente nella parte di gestione dei documenti online Google, cioè in quello che una volta era il Google Documento, Docs, e adesso si chiama Drive, quindi verranno salvate lì nel nostro account, protette lì, crittografate lì, molto comodamente. E quindi, è senz'altro meglio, non è, ecco, diciamo che non è obbligatorio, non è una cosa, una condizione sine qua non avere l'account Google, ma senz'altro aiuta nel comfort, nella comodità di utilizzo, avere il proprio account. Quindi, il browser Chromium deve essere connesso, come vedete qui, io ho già connesso questo account con il mio, un mio account Google Gmail, l'ho già connesso il browser. Tra l'altro, piccola parentesi, sto registrando questo video in una virtual box di Ubuntu 12.10, lo vedete qui in alto, il titolo della finestra è Ubuntu 12.10 64-bit, in virtual box, questo perché? Perché io, usando già questo gestore di password sul mio PC reale, non volevo disattivare tutto e mostrarvi tutto dall'inizio sulla mia situazione reale, ma preferivo partire da una situazione pulita, e quindi lo faccio qui nella virtual machine, quindi sarà un po' più lenta, però, se non altro, partiamo proprio da zero. Ecco, come si chiama questo gestore di puzzle? È un'estensione dunque, perché lo usiamo direttamente nel browser, è un'estensione, quindi apriamo la scheda delle estensioni e schiacciamo, se non l'abbiamo ovviamente già installata, il link, prova altre estensioni per aprire il Chrome Web Store e andare a cercare l'estensione Paster, adesso lo scrivo così, vedete come si scrive, quindi cerca nello store, ecco che tra un attimo, voilà, Paster, quindi scrivo PAS2STER questo è il nome dell'estensione che ci interessa, faccio ENTER ed eccola qui, è la prima, la seconda, ignoratela, a noi quello che serve ed è utile, Paster, eccola qua. Si schiaccia Aggiungi, come per tutte le estensioni, questo immagino lo sappiate già, ed ecco anche perché dovete essere connessi a un account Gmail per poter tranquillamente lavorare anche con le estensioni. Aggiungere Paster, facciamo Aggiungi, eccoci qua, e questa è la premessa per preparare insomma il terreno per poter usare questa estensione che permette, ecco qua. Appena installata, Paster si attiva subito, ecco dunque lo store non lo abbiamo più bisogno, chiudo la scheda, nelle estensioni è apparso Paster, lo vedete qua, qui c'è il suo link per le opzioni che sono poi quelle che si sono già aperte in automatico, quindi si presenta così, ed ecco qua il primo setup. Allora, il primo setup cosa ci chiede? Dove devo salvare le puzzle, il repository delle puzzle. Detto questo, vedete che per difetto lui si presenta, vi dice, ve le salvo dentro integrate nel browser sul vostro computer locale, oppure, tirando giù la tendina, posso salvarle in Google Docs, ovvero quello che adesso si chiama Google Drive. Ecco, io vi ho detto che è decisamente più pratico salvarle in Google Docs che non localmente nel vostro browser, perché localmente nel vostro browser non avete un file in mano e il repository è integrato e dentro in questa installazione di Chromium, quindi se cambiate PC non avete la possibilità di installare Paster su un altro PC e utilizzare le vostre user e password che avete salvato solo su questo PC e su questo Chromium. Al contrario, se voi salvate le vostre password sul vostro account Google, quindi su Google Docs, anche se installate su 10 altri PC potete sempre agganciarvi al vostro account, al vostro Google Docs e quindi avere automaticamente a disposizione le vostre user e password. Quindi io vi consiglio veramente di cambiare questa opzione e mettere Google Docs. Poi vi dice come userò questo computer, come ho usato questo computer. Per difetto è quello che, almeno di solito va bene, almeno per me va bene, perché è un PC privato che uso solo io, se no ci sono altre opzioni tipo è un PC con più user che possono accedere allo stesso PC o addirittura un PC pubblico o che so, in un internet caffè. Ecco, quindi diciamo che se è il vostro PC privato o personale, la maggior parte delle volte va già bene questa opzione. Poi, ecco qua la chiave. Vi chiede una chiave, naturalmente perché il repository non è salvato così in chiaro con tutte le vostre password e user, anzi viene criptografato, ovviamente. Su Google Docs, ok, è protetto dalla user e password del vostro account Google, ma non è sufficiente. A sua volta i file contenenti user e password sono ulteriormente criptografati molto bene. E qui, date sfogo alla vostra fantasia, mettete la vostra password, quella che preferite. Basta che la teniate presente e a mente e non la mettete su un post-it vicino al PC, perché questa è quella famosa password che vi permette di accedere a tutte le altre. Quindi, createvene una che riuscite facilmente a tenere a mente. Ecco, io naturalmente sto facendo un tutorial, quindi metterò una password facile. Vedete sotto c'è questa barra colorata che cambia man mano che scrivete la password. Se è rossa o giallina è una password così così verde, è una password molto forte, cioè molto difficile da indovinare. Naturalmente io non mi complico la vita in questo tutorial, quindi metto una password facile. La ripetete sotto e poi fate click qua, perché accettate i termini di utilizzo, dove mi spiegano insomma sulla sicurezza, i dati qua, su e giù. Insomma, nessuno li legge mai, ammettiamolo, anche se si dovrebbe, però accettiamoli, così possiamo salvare le nostre impostazioni iniziali. Facciamo save. Si sta connettendo ai server di Google, ecco, l'applicazione Paster, password, tar, fast, eh, sta richiedendo l'accesso al tuo account Google, Google documenti, per poter, puoi salvare il vostro archivio password. Quindi, diciamo, consenti l'accesso, concedi l'accesso, concedi l'accesso, ed è fatta. Vedete? Ok, è fatta. Et voilà, questo è il menu di gestione di Paster dopo il primo setup. Vedete che vi dice il repository, qui in basso a destra, dove c'è il mouse, il repository su Google. Quindi l'avete nella vostra nuvola personale di Google, e da qualsiasi PC sul quale voi avete Chromium, sul quale installate Paster anche sull'altro PC, e nel primo setup, sempre con il vostro account, naturalmente il medesimo account di Google, accedete con la stessa chiave che abbiamo inserito nel primo setup, la stessa chiave principale, vi ritrovate le stesse user e password. Vedete, qui potete aggiungere una password da qui, potete generare delle password, potete importarne, se ne avete di esterne, che ne avete salvate esternamente, potete esportarle, potete fare un backup della situazione corrente, quindi creare una copia, potete fare un restore da un backup che avete fatto, oppure potete disabilitare Paster. Quando Paster è installato, appare l'icona qua in cima, ecco, se voi cliccate su questa icona, Paster vedete che sta lavorando, dice che per questo sito, ovvero per questo sito sotto, la scheda in evidenza, cioè quella attiva, naturalmente è la scheda di Paster, medesimo, e lui, se voi cliccate qua sopra, vi dice che non ci sono password per questo sito, naturalmente non è un sito con user e password, ecco. Finché siamo qui, allora, magari possiamo chiudere il setup, perché al momento l'abbiamo fatto, l'estensione pure, e apriamo un attimino ancora questo, ecco, solo concludere il giro dei settaggi, delle impostazioni di Paster, vedete, vi ho detto qui cosa potete fare nel menu, qui potete cercare, la vostra password se ne avete tanti, qui sotto, vedete degli omini celeste, verde, giallo e rosso, con 0, 0, 0, queste sono le password al vario stadio di età, ecco, perché Paster ha un concetto di password che se invecchia può diventare meno solida, più pericolosa, più soggetta ad essere indovinata, quindi blu è una password fresca, nuova, poi più passa il tempo diventa verdina, poi gialla e poi rossa, vuol dire che sarebbe ora di cambiarla, che poi lo cambiate o no, questo è un altro discorso. E poi non solo user e password, potete salvare in Paster, ma anche dati di carte di credito e altri tipi di segreti, che lo vedete anche qui, quindi la chiavetta è per le password, ecco che l'ho cliccata, e ritorna al setup grande, poi queste sono per le carte di credito, se volete aggiungere i dettagli, queste sono per altri segreti generici, e poi c'è appunto la configurazione. Questa è la configurazione che abbiamo già passato un attimo fa, quando abbiamo installato Paster, vedete, qui vi dice le regole per creare eventuali nuove puzzle, se volete fargliele creare a lui. Qui sotto, importanti le opzioni di gestione di Paster in quanto tale, fra le quali trovo quella importante di disabilitare Paster quando Chromium viene chiuso. Cosa vuol dire? Che noi attiviamo questa opzione, adesso Paster è attivo, cioè noi abbiamo messo la nostra chiave del repository delle password ed è attivo, quindi Paster accede al repository. Se noi chiudiamo Chromium con questa opzione attiva e riapriamo Chromium, Paster è sconnesso, quindi bisogna cliccare su questa icona, mettere la nostra password, quella che abbiamo messo, e poi così si può accedere al repository delle password. Ecco, io trovo importante almeno attivare questa opzione perché, salviamo magari anche, ecco, vedete, cambio un'opzione e devo mettere la mia password principale perché non mi lascia cambiare nulla senza inserire la password. Se metto la password giusta, ok, ha salvato. Torniamo sul setting, ecco. Quindi, dicevo, con questa opzione attiva chiudo Chromium e almeno se mi rubano il PC o qualsiasi cosa riescono ad accedere a Chromium, si ritrovano a dover inserire una password per poter accedere le nostre password. Se non attiviamo questa opzione, chiudendo Chromium e riaprendolo, Paster è già connesso, quindi è un ulteriore grado di sicurezza, meglio attivare questa opzione. Poi qui, ho cliccato, scusate, che in questa virtual machine ogni tanto si attiva, il mouse va dove vuole, ogni tanto non volevo che si aprisse quello, pazienza. Ecco, scusate, lo chiudo. Ecco, questo è l'effetto della diretta, non volevo che succedesse, ma pazienza. È già lenta abbastanza la virtual machine, senza che succedano queste cose. Comunque, ecco, questa opzione è importante. Poi c'è ancora la scheda domains, nella quale domains non si tocca nulla, è la scheda backup dove potete anche attivare dei backup automatici, però diciamo che avendo salvato già i repository sui Google Docs, che sono già salvati per conto loro, la nuvola, non è così determinante creare dei backup ulteriori. Ecco, ecco, fatto. Quindi questo è il giro di gestione di Paster in quanto tale. Come agisce, come si usa Paster? Quindi chiudiamo, ecco, io ho un sito che adesso non me lo sono già preparato, ma c'è un sito, vediamo un po', al quale io in realtà non ho accesso, però presento una bella schermata semplice di login e puzzle che è didatticamente molto comoda. Io non ho accesso a questa rete sociale, ma ai due campi username e password. Ecco, provo a inserire una mia username fittizia, quindi diciamo che sto facendo un tutorial, tanto ripeto non ce l'ho l'accesso, quindi è uguale a quello che scrivo. Tutorial, e poi provo a fare la login, che ovviamente mi verrà rifiutata, ma il mio scopo è un altro. Ecco, vedete, ho inserito in questa pagina, di un sito qualsiasi, username e password con Paster attivo. Vedete che è venuta fuori un'iconcina arancione. Sotto mi appare una notifica che mi dice, vuoi salvare questa user e password per questo sito? Io posso dire di no, come posso dire di sì? Ora dico di sì. E Paster automaticamente mi ha salvato per il sito mio.com, vedete qui, lo user tutorial e la sua password, che poi qui ha i vari pulsanti di gestione, vedete io la posso cancellare, la posso cambiare, la posso visualizzare, se clicco qui mi chiederà naturalmente la password principale, prima di farmi vedere la password, la posso riempire i campi dietro o posso farla diventare una preferita. In sostanza Paster si accorge, quando voi usate dei campi di login, si accorge che può essere utile salvarlo. E quindi ve lo chiedo automaticamente. Con un clic l'ho salvato. Cosa succede? Se io domani, fra una settimana, rientro in questo sito, adesso lo faccio rileggere, questo sito, continua, lo faccio rileggere e cosa succede? Che magicamente Paster, vedete qui con la sua icona, mi riempie già da solo i campi, a me basta fare login, perché è attivo Paster. Sono entrato con la mia user, con la mia chiave principale, lui ha a disposizione l'archivio, ed ecco che Paster ha agito. Voilà. Adesso ancora un'altra, e quindi qui per tutte le password è uguale, ve ne ho fatto vedere uno, com'è il meccanismo, entrate in un sito, la prima volta mettete a mano user e password, fate enter per la login, Paster interviene, e vi dice, lo devo salvare, sì no, e dalla volta successiva siete a posto. Un'altra particolarità sono questi due switch, questi due interruttori qua sopra, di cui il primo dice, ignora questo sito, il secondo dice, vediamo un po' se lo dice, ecco, disabilita l'impostazione automatica della password per questo sito, quindi proviamone uno, vediamo un po', adesso sono spenti, è naturale, queste due azioni sono spente, sono su off, metto su on il primo, che sarebbe quello di ignorare questo sito, quindi se io torno in questo sito, lo rileggo, oh, scusate, rileggo questo sito, vedete che Paster l'ha ignorato, non mi ha più riempito user e password, cambiamo, quindi gli dico no, non ignorare più questo sito, quindi rispengo quest'opzione, però gli dico, attiviamo l'altra, di non inserire la password automaticamente, quindi attiviamo l'altra, e faccio finta di ritornare in questo sito, e a quanto pare ha lo stesso effetto, mi aspettavo un altro effetto, ma in realtà ha lo stesso effetto, quindi non compila automaticamente questo sito, che poi è uguale, mi aspettavo un altro effetto, dire la verità comunque. Diciamo che in linea di massima è raro che per un sito si voglia evitare, un sito già registrato si voglia evitare la compilazione, quindi lo si riattiva, e riattivando le opzioni normali, vedete che ricompila il tutto. Può succedere magari con siti multipli, ogni tanto, o per cambi password che non volete che ve lo compili automaticamente, allora potete attivare queste opzioni, e quando rientrate nel sito si comporterà in modo differente, però in linea di massima ovviamente la comodità sta nel tenerli attivi. Questo è il giro, è il giro di gestione delle password con Pasteur, quindi è vero che Pasteur non è indipendente, cioè non è un programma indipendente da tutto diciamo, c'è bisogno che usiate Chrome o Chromium, e è fortemente consigliato, almeno da parte mia, che usiate la connessione verso un account Google, per poter memorizzare i vostri user e password. Però lo trovo estremamente comodo, perché io poi comunque che ho adottato Chromium come browser, lo trovo estremamente comodo avere questo Pasteur attivo, perché man mano che accumulate i siti, vi basta un click, entrate, uscite di qua e di là, è veramente molto comodo. Quindi se siete nella mia stessa condizione, con un account Google e con l'uso di Chrome o Chromium, io vi consiglio di usare Pasteur. Ecco, Google documenti, vediamo un po' se riesco magari, giusto per chiudere il video, a mostrarvi i documenti. Vediamo un po' se riesco a mostrarvi dove Pasteur salva i documenti, i repository, giusto per... Ecco qua, vedete, qui sono entrato nel settore, nel servizio Google documenti o Google Drive, insomma, che è quello nuovo, Google Drive di Google, dove io gli ho detto di salvare i repository a Pasteur, e vedete che ha creato una cartella Pasteur, ecco qua, vedete, con dentro il setting, quindi le impostazioni, i segreti, le password, il repository in quanto tale, la password principale, lui ha suddivide in vari file come vuole lui, e naturalmente sono tutti criptografati, questi documenti, non sono in formato leggibile, ovviamente, per ovvi motivi, vedete, ne apro uno, è tutto irriconoscibile. Ecco, voilà. Spero, come sempre, di aver creato un video utile a qualcuno, che abbia dato uno spunto a qualcuno interessante, questa estensione è davvero una delle più interessanti che ho attivato sul mio Chromium vero, e ve l'ho mostrato in questa VirtualBox come funziona, davvero molto, molto comodo. Ovviamente, se è un sito che richiede il cambio di password, se voi stessi cambiate password, potete farlo sia in Pasteur editando la voce, sia qui, e naturalmente Pasteur se ne accorge, avete visto, ho cambiato la password, Pasteur se ne accorge, faccio yes, e ho salvato la nuova Pasteur con la nuova password, e lui lo fa automaticamente, avete visto, voilà, vedete adesso la password è più lunga, si sono aggiunti dei pallini, perché io l'ho cambiata, quindi anche se sono siti che automaticamente fanno scadere la password, ve ne chiedono una nuova, voi non fate altro che inserire quella nuova, prossima login, Pasteur se ne accorge, aggiorna già lui, vedete, molto, molto lineare, pratico, molto semplice da usare, ecco, ho finito questo primo video della miniserie, vi do appuntamento al prossimo, per il prossimo gestore di password, che personalmente utilizzo, spero vi sia piaciuto, questa prima puntata, un saluto, ciao ciao,